il sale della vita capitolo di teoria della cucina capitolo breve il sale della vita non si riduce nel salario il sale indispensabile procedere dal salato insipido il sale sta alla punta della combinazione infatti quando non ci sta apparentemente riemerge nel reale come vita sapida o insipida relativa e mai assoluta senza sale non si può condurre una vita civile plinio il vecchio 23 79 nella naturalis storia allude alla città sebbene la vita non è una non c'è nessuno che non trovi nel cibo un lenitivo alla propria ira afflizione tristezza e a tutte le passioni la post filosofia c'è già a roma l'ideologia del cibo come rimedio come veleno per plinio il cibo esercita un'azione terapeutica non solo sul fisico ma anche sul morale la tesi sul cibo di Feuerbach è già qui l'uomo è ciò che mangia l'accumulo di sapori è funesto la combinazione è senza accumulo nel senso che anche disaccumulare i sapori accumulati è funesto e tuttavia indicazione non vi è nulla di più utile che ridurre superfluo lo relega alla quantità inoltre il fasto non è il contrario del nefasto ma il suo apice quindi ridurre il fasto è altrettanto nefasto sapere sapore sale insapido e insipido cioè la connessione tra sapore e sale ciò che ha sale a sapore il granello di sale il granello di pepe il granello di sabbia o di poesia il sale della vita il sale originario ogni animale secondo il principio di tomasi giuseppe tomasi di lampedusa si crede il sale della terra qui troneggia l'ironia rispetto al silogismo di aristotele ogni uomo ogni animale il sale non rappresentato né salario e nemmeno nella cucina sapida o insipida è il sale della terra il sale che non dipende più dall'essere il sale non va messo né prima né dopo come presume l'algebra della cucina certamente il sale del mondo è come il prezzemolo che sta in ogni piatto niente a che vedere con il sale che dal fare al suo statuto nel divenire qualità nel senso si può aggiungere quanto sale si vuole alla quantità e mai ugualierà la qualità il sale come moneta o come salario tal rimane la questione essenziale del sale quindi